Queste sono madri, sorelle, figlie di 18 pescatori che da ormai 60 giorni sono sequestrati dalla Libia di Aftar in piena violazione del diritto internazionale, sequestrati mentre pescavano in acque contese, sequestrati nel disinteresse e nel silenzio del governo Conte e del ministro Di Maio che su questa vicenda continuano a spendere al massimo qualche frase di circostanza. Alle interrogazioni che Fratelli d'Italia ha presentato su questo tema il governo risponde in buona sostanza che la colpa è di questi pescatori che vanno a pescare in un mare conteso che significa che il governo l'ha già consegnato alla Libia ma in ogni caso nessuna nazione sovrana degna di questo nome consentirebbe a degli stranieri di sequestrare i propri cittadini innocenti senza alzare la voce. È l'ennesimo purtroppo esempio di un governo incapace a fare il proprio lavoro, incapace a rappresentare la dignità di questa nazione. Sulla vicenda dei 18 pescatori di Mazzara del Vallo va coinvolta l'Unione Europea e il governo deve alzare la voce. Abbiamo detto al Presidente Conte che se ci fosse un governo vagamente dotato del minimo sindacale di attributi, a stare avrebbe già visto il profilo delle navi della nostra marina militare dalle sue coste come avrebbe fatto qualunque altra nazione alla quale fosse accaduta la stessa cosa. In ogni caso per questi pescatori al di là della controversia internazionale che va risolta nel più breve tempo possibile si possono dare delle risposte anche economiche perché queste famiglie non prendono ovviamente uno stipendio da mesi perché sono abituate a vivere del loro lavoro, un lavoro che oggi viene impedito a quei pescatori con famiglie che non hanno niente di cui sospentarsi. Sono qui, in Piazza Montecitorio ormai da settimane hanno allestito una tenda anche in condizioni abbastanza precarie. Stiamo cercando adesso, sempre grazie a Fratelli d'Italia, di dare loro una sistemazione più dignitosa per una battaglia che consideriamo giusta. Ma il Ministero degli Affari Esteri, i fondi per risarcire queste famiglie di qualcosa che non è colpa loro, ce li ha. Come li hanno per darli in situazioni ben meno nobili che abbiamo visto in questi anni. Chiediamo anche al Ministro Di Maio di svegliarsi e Giuseppe Conte che ha tempo per fare una conferenza stampa al giorno. Se mentre passa, uscendo da Palazzo Chigi, tirasse fuori il cuore per venire a stringere la mano a queste famiglie, farebbe una cosa sicuramente degna di nota. Che finora non ha avuto l'umanità per fare.